Arriva una boccata d'ossigeno per il sistema sanitario piemontese impegnato in prima linea nell'emergenza contro il coronavirus. Sono infatti atterrati oggi pomeriggio l'aeroporto di Caselle accompagnati dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia i 22 medici volontari che il governo ha messo a disposizione degli ospedali piemontesi. Ad accoglierli il presidente della regione Alberto Cirio, il sindaco di Torino Chiara Appendino e il prefetto di Torino Claudio Palomba. Noi siamo grati di questo contingente, per noi è vitale, vitale perché il ministro ha ben chiarito qual è stato lo sforzo delle regioni d'Italia, in particolare anche della regione Piemonte che è tra le prime tre regioni d'Italia per incremento di posti letto di terapia intensiva. Questo è un risultato che è merito del grandissimo lavoro della sanità piemontese che ha inventato posti di terapia intensiva ogni laddove potesse farlo e ci ha permesso di passare dai 287 posti iniziali, pensate noi eravamo la penultima regione d'Italia per posti di terapia intensiva in rapporto agli abitanti. Oggi invece li abbiamo incrementati e ne abbiamo quasi 600 e quindi questo incremento è molto importante perché il posto di terapia intensiva è la garanzia di curare tutti e noi in Piemonte vogliamo curare tutti. Presenti anche il vicepresidente della regione Fabio Carosso e il commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte Vincenzo Coccolo che insieme all'assessore alla sanità Luigi Icardi ha organizzato l'immediata operatività della squadra di medici che arrivano da varie parti d'Italia e andranno a sostenere gli ospedali del territorio. Sette prenderanno servizio all'ospedale Covid di Verduno, uno a Cuneo, sette a Torino e provincia, uno a Vercelli, uno a Biella, due a Novara, uno nel VCO, uno ad Asti e uno ad Alessandria. Sono specializzati in malattie infettive, anestesia, rianimazione, chirurgia generale, cardiologia, medicina d'urgenza e medicina interna.